Come collegare le batterie in serie o in parallelo? Spiegandolo in modo semplice con esempi pratici e schemi chiari. Iniziamo con le batterie in serie. Collegare in serie delle batterie significa unire i poli positivo e negativo di due batterie insieme per sommare la tensione mantenendo invariata la capacità. Per capacità si intende la carica di ampere di ciascuna batteria. Due batterie da 12V 100A in serie diventano un sistema da 24V e sempre da 100A. Alcune applicazioni tipiche di questa configurazione sono per i camion, le grandi barche, anche gli inverter off-grid. Nella connessione in serie bisogna usare batterie identiche di stessa chimica, carica e anche amperaggio. Nelle batterie in serie il voltaggio si somma, mentre gli ampere rimangono uguali. Non bisogna usare batterie differenti. Se si connettono più batterie in serie, la tensione che si ottiene è la somma di tutte le tensioni delle singole batterie. Bisogna sempre sommare le varie tensioni. In questo caso, con tre batterie, dovremmo fare 12V più 12V più 12V uguale 36V. La capacità di ampere, invece, rimane uguale. Se una delle batterie della serie si dovesse guastare, il sistema non funzionerebbe più. Sei costretto a cambiare tutte e due le batterie, proprio perché devono essere uguali. E' buona norma mettere un fusibile con un valore adeguato agli utilizzatori sulla linea. Usa batterie uguali della stessa capacità e prima di connetterle in serie, caricale completamente, singolarmente. Questo ti permetterà di averle equilibrate. Puoi usare questo sistema del doppio caricabatterie anche con i carichi inseriti, senza dover togliere i morsetti delle batterie. L'unica cosa a cui devi fare attenzione è che i caricabatterie siano isolati tra loro, senza nessun cavo in comune. In questo modo saranno anche indipendenti. Le batterie si caricheranno perfettamente. Questo sistema può essere ottimo anche per bilanciarle e caricarle sempre al massimo. Ora vediamo il parallelo. Anche in questo esempio prenderemo in considerazione due batterie da 12V 100A ciascuna. In questo caso la tensione dell'impianto rimane a 12V, ma si sommano gli Ampere. Non collegare batterie di diverso voltaggio, quindi chimica o carica. Però puoi connettere batterie di diversa capacità. È molto importante non connettere batterie di diversa chimica, perché potresti rovinare la batteria con caratteristiche diverse. In questo caso non serve il bilanciatore. Possiamo mettere in parallelo anche batterie di capacità diversa. In questo caso abbiamo una batteria da 100A più una batteria da 200A, per un totale di 300A di carica. Puoi connettere le batterie di diversa capacità, purché la tensione sia uguale per tutte le batterie. Anche in questo caso è consigliabile caricarle completamente prima di connetterle. Vediamo adesso perché. Però, prima di continuare, ti chiederei di lasciarmi un like se ti piace questo video. Iscriverti al canale per essere avvisato dei prossimi video che presto arriveranno e lasciami anche un commento con suggerimenti per i prossimi video. Grazie del supporto al canale. Come mai si possono caricare batterie di diversa capacità? Vediamo alcuni casi. Carica al 100%. In questo caso, a 13,5V, la nostra batteria da 100A sarà carica completamente. E avrà 100A. Ma questo vale anche per la batteria da 200A. A 13,5V sarà sempre carica completamente. Se fosse carica al 50%, questa avrà una tensione più bassa, 12,3V, per esempio. In questo caso, 100A al 50% vuol dire che abbiamo ancora 50A disponibili in batteria. Per la batteria di 200A è uguale. Sarà una carica al 50% con 12,3V che corrisponde a 100A. Adesso vediamo con le batterie cariche al 30%. 12V vuol dire una carica circa del 30% sulla nostra batteria piccola. Quindi 100A, 30% di 100A uguale a 30A. Per la batteria grande non cambia. 12V corrispondono a una carica del 30%. Quindi 200A, 30% uguale a 60A. In pratica, le batterie si scaricano in proporzione alla loro tensione. Se preleviamo 9A da questi parallelo, 3 arriveranno dalla batteria da 100A e 6 dalla batteria da 200A. Attenzione! Se una delle due batterie si guasta, non hai più energia, oppure rischi anche di guastare le altre. È buona norma quindi mettere un fusibile su ciascuna batteria. In questo caso, l'impianto può rimanere in funzione, con capacità ridotte ma funzionante. Esistono fusibili specifici, fatti apposta per essere montati sul polo delle batterie. Ti lascio il link in descrizione. Adesso vediamo degli schemi paralleli per più batterie. Importante in questi collegamenti lasciare sempre la stessa lunghezza dei cavi per non sbilanciare l'impianto. Un sistema migliore è utilizzare i busbar, quindi con sempre dei cavi della stessa lunghezza, collegare tutte le batterie per il polo negativo e tutti i poli positivi su due specifici busbar, da dove partiranno le linee per gli utilizzatori. Bisogna utilizzare cavi della stessa lunghezza in modo che abbiano la stessa resistenza. Se dovessimo usare cavi più o meno lunghi, le resistenze sarebbero diverse e si sbilancierebbero le batterie. Per gli impianti più complessi si possono fare più serie di parallelo. Questo è sicuramente migliore piuttosto che fare una serie unica molto grande. Non consiglio di andare oltre a 5 batterie per ciascuna serie. Questo è particolarmente utile negli impianti solari, dove dobbiamo avere una grande capacità per immagazzinare l'energia dei nostri pannelli. In pratica cosa conviene? Per gli impianti in serie i cavi sono più sottili a parità di potenza. Questo vuol dire che potremmo avere i pannelli solari, per esempio, più distanti se messi in serie. Questo perché ci sono meno cadute di tensione nelle distanze dovuta alla resistenza del cavo. Gli inverter a parità di potenza costeranno meno, quando li facciamo funzionare con tensioni più elevate. Anche i controller solari costeranno meno, gestendo correnti meno elevate. Questo è adatto soprattutto per impianti di medie e grandi potenze. Negli impianti in parallelo, invece, in questo caso l'impianto a 12 Volt è uguale a quello dell'auto o della barca o del camper. Quindi è più facile da gestire per il bilanciamento. Sono disponibili tanti accessori che funzionano a 12 Volt che si trovano sul mercato ed è adatto a piccole potenze. Questo invece è uno schema di un sistema che funziona a 24 Volt con due banchi batterie diverse. Prendetelo solo come esempio. Qui mancano ancora degli interruttori, mancano la possibilità di separare i pannelli solari dal controller. È solo un esempio. Presto sul canale troverete schemi specifici per tanti impianti diversi, dal più semplice al più complesso. Ricordati però di regalarmi il like, di iscriverti al canale e di lasciare anche il commento. Ci tengo tanto. Grazie mille. Alla prossima. Grazie mille. Grazie a tutti.